Ha messo radici in Piazza Cittadella nel lontano 1950, colorando con piantine da orto e da giardino e fiori variopinti questo angolo di città. Ha visto passare tre generazioni e oggi, a distanza di 73 anni da quando la Serranda si alzò per la prima volta, ha deciso di chiudere i battenti. Stiamo parlando del fiorista di Piazza Cittadella, una vera istituzione da queste parti, con la clientela più affezionata che dovrà abituarsi all'idea di non vedere più, dietro quel bancone, i volti di Mariuccia Spezia e del figlio Antonello Ferrari, che ora potranno godersi il meritato riposo, non senza un filo, o meglio uno stelo, di malinconia. La mia attività è stata aperta da mia mamma e da mio nonno e da mio papà, però poi adesso è venuto il momento di chiudere, non si può andare avanti in eterno, noi siamo in pensione, io e mia moglie, e diciamo che avremmo potuto continuare ancora un pochettino, però era il momento, bisogna prendere le decisioni e portarle avanti. Tanto tempo, tante manifestazioni d'affetto dai nostri clienti, che ormai non erano più clienti ma facevano parte della vita stessa, quindi è stata una bella avventura, durata tanto, ma con molte soddisfazioni. La mia vita l'ho passata in questo negozio, ho cresciuto i miei figli, purtroppo ho perso il marito molto presto, il mio dispiacere più grosso è che fosse stato lui oggi a vedere queste chiusure. Bisogna essere solo soddisfatti ed è quello che importa.